Le domeniche d'estate si potrà viaggiare verso il Casentino e la Valdichiana col treno grazie alle corse speciali delle linee Sina-Lungarezzo-Stia-Arezzo. Una novità per i mesi di giugno e luglio che servirà a collegare le vallate con la città nel periodo di maggior affluenza turistica. Il nostro servizio prenderà inizio dal prossimo 16 di giugno e quindi per 5 domeniche forniremo all'utenza, ai nostri tanti utenti, un servizio anche domenicale con due corse. In andate e due corse di ritorno nel pomeriggio per poter raggiungere sia il capoluogo e sia le località in periferia nelle vallate del Casentino e della Valdichiana. Con orari che sono orari a nostro avviso confacenti per quanto riguarda le necessità degli utenti, quindi con un primo treno che partirà all'incirca alle 14.30 ed un ultimo treno che farà rientro al Capoligna per le 20. Quindi avere tutto il pomeriggio a disposizione per poter circolare sia per la città di Arezzo sia per le nostre belle vallate. Questo è un segnale concreto per essere attenti a quello che è stata un po' la richiesta, la sollecitazione delle amministrazioni comunali e anche in alcuni casi dell'utenza. Era un nostro progetto già dall'inizio e è stato reso possibile a questo punto grazie anche a una collaborazione con la Regione Toscana. La stessa cosa sarà nel mese di dicembre e questo è per dare una vera attenzione a quella che è una risposta sul territorio. Noi crediamo che il treno sia un mezzo assolutamente utilizzabile da tutti e quindi per poterlo fare dobbiamo permettere che questo servizio venga fatto nei giorni e in particolar modo nei giorni quelli festivi in questo caso. E questo è un segnale concreto di vicinanza e di risposta a richieste territoriali come altre ce ne saranno.